Il sogno è quello della promozione che per i biancorossi dell'Ampi Casassa manca da tanto tempo, mentre un fresco ricordo per la Superba dopo la mancata qualificazione nei playoff. Il campionato è ancora lungo, ma oggi una tra le due contendenti potrebbe agganciare o mantenere il primo posto. Intanto gustiamoci il match che si prospetta caldo e combattuto. È tutto pronto, l'attesa è finita, si comincia con un primo possesso Superba. Partono a mille i padroni di casa con un missile di Mincolelli. Rispondono poco dopo gli ospiti con un tiro dal limite, ma Berlini si tuffa e para. A sesto minuto, cross dalla sinistra, stop di Vio e la gira col sinistro sul secondo palo, subito in vantaggio Lampi con il loro giovane bomber che ritrova il suo sesto gol. Due minuti più tardi, Mincolelli la butta in mezzo e lo grasso spreca un'occasionissima di testa. Al quindicesimo minuto una punizione magistrale di Riviecio toglie le aragnatele sotto l'incrocio dei pali e pareggia i conti. Ampi 1, Superba 1. Vediamo rallentato il super call di Fabio Riviecio. Il primo tempo si chiude con un tiro di Cilia parato da Bertulessi. Nel secondo invece la Superba parte con una conclusione, però troppo innocua per Bernini. Al minuto 14 la palla precipita sui piedi di Lograsso, destro e palla fuori di poco. Alla battuta dei calci d'angoli va lo stesso Lograsso che prima mette una bella palla per Cilia, l'azione successiva la mette per Anumar, stacca di testa e la palla colpisce il braccio l'arco di Mineo. Per l'abito Rodio di Genova non ci sono dubbi e fischia il penalty in favore dell'Ampi al minuto 45. Inutili le proteste della Superba perché la Moviola conferma la scelta del direttore di gara. Si presenta dal dischetto Trocino, va col sinistro e incrocia perfettamente spiazzando Bertulessi, terzo centro di stagione per il numero 5 Biancorosso. Al quinto e ultimo minuto di recupero la Superba, l'ultima chance da calcio piazzato, ma Matera sfiora il gol che avrebbe cambiato le sorti del match e chi lo sa del campionato. Il big match del sabato poveriggio finisce 2-1 a favore dell'Ampi che torna a capolista insieme alla Voltreza. Onore al merito ad una combattiva Superba.